Dopo ben 11 edizioni, CNA Idei in Moda ritorna anche quest'anno con grande successo. Il Defile di Stelle, promosso dalla CNA di Pesaro e Urbino per promuovere il settore del tessile e abbigliamento, approda per la sua dodicesima edizione nella città di Urbino. Una manifestazione che in questi anni è diventata tra le più importanti sfilate live italiane e che ha trovato nella splendida piazza Duca Federico la sua cornice ideale. Nella città patrimonio dell'UNESCO, CNA Idei in Moda porterà sabato 1 settembre a partire dalle ore 21 un livello di grande spettacolo e intrattenimento finalizzato a coniugare al meglio moda e bellezza con uno show dedicato oltre all'originalità e l'accuratezza artigianale. Vari i marchi di abbigliamento che sfileranno quest'anno sul palco, legati soprattutto alla moda uomo e donna, alle calzature, agli accessori, fino agli abiti da sposa. Un obiettivo, dicono il presidente provinciale Alberto Barilari e il segretario Bordoni, al quale CNA sta lavorando con impegno da più di dieci anni, nonostante la difficile congiuntura economica per cercare di rendere sempre più appetibile il settore del tessile e abbigliamento, storicamente importante per la provincia di Pesaro e Urbino e per le Marche. A presentare questa edizione saranno la conduttrice Rai Veronica Maia assieme al conduttore radiofonico David Romano. Tra gli ospiti illustri invece ci saranno le modelle Justin Mattera ed Elena Morali, l'ex campionessa olimpica di scherma Valentina Vezzali, l'autore di inchieste scoop televisivi del programma Le Iene Filippo Roma, il soprano Ludovica Gasparri, oltre al corpo di ballo della popolare trasmissione Rai I migliori anni. Grazie. Grazie.